Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva, Signore, il mio servo è in casa, letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse, verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno, va, ed egli va, e un altro, viene, ed egli viene, e al mio servo fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano. In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e si deranno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione, Va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò, poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati, ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Esaia. Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Gesù, Dio salva. Chi ha incontrato il Signore, forse anche tu che stai ascoltando in questo momento, lo puoi dire. E puoi ricordare quel momento in cui il Signore ti ha visitato, ti ha toccato, ti ha liberato, ti ha salvato. Chi di noi non è malato, nel corpo o nello spirito. Chi di noi non ha qualche malattia. Questo Vangelo è una parola di grande consolazione. Gesù salva, Gesù libera, Gesù guarisce. Lo fa attraverso la fede appunto del centurione, per la suocera di Pietro lo fa toccando la mano, lo fa con la sua parola che libera gli indemoniati dagli spiriti impuri e guarisce malati. Il Signore Gesù è venuto a liberarci, è venuto a togliere quelle catene che ci rendono schiavi, è venuto a guarirci da quelle malattie che ci paralizzano a letto, che non ci fanno vivere, non ci fanno amare, non ci fanno correre. Tutto ciò che diventa schiavitù e spesso noi siamo nemici a noi stessi, siamo schiavi del nostro ego, del nostro io. Solo una cosa serve, la fede. Allora chiediamo al Signore oggi il dono di una fede grande, che queste parole di Gesù verrò e lo guarirò. La sentiamo la rivolta a noi. Il Signore viene e quando il Signore viene guarisce, libera, salva. Presentiamo però al Signore senza nascondere quella situazione nel nostro cuore o quelle persone che hanno bisogno. Intercediamo come fa questo centurione qua. Mettiamoci proprio dalla parte del Signore. Chiediamo misericordia per l'umanità intera.